C'è un solo eh! Due in trattata a testa! Due! Sia! 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 Allora non fate casino, non iniziano! Vai! Ok, deciso io! Vai, Entry! Entra! Prima semifinale, World Ride! Come on everybody! Oh, 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 oh! Yeah, yeah! Big up! Grande, un applauso! C'è competizione ma c'è amicizia rispetto! Grandi, yeah! Dai, tu vai, ti impara! Siamo noi, siamo noi grandi che siamo noi! Let's go, pari, va! Flash up! Prima in trattata, Entry! Oh, oh! Hey! Ehi! Provo musica è 2020 Versace! asa-i! Hey! GENTE E ARTE 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 GENTE E ARTE